stai guardando un video ovvio per te dalla tua parte dello schermo meno ovvio se mi stai guardando dal vivo non può mandare indietro e soprattutto non puoi mettere a doppia velocità che è l'invenzione migliore degli ultimi anni mi trovo su un palco ma anche nella collezione di video sul sito e sul canale youtube di ted un video che per essere realizzato ha bisogno di cinque camere 60 volontari luci un sacco di organizzazione però ormai in realtà fare video è diventato semplice io sono uno youtuber racconto tutta la mia vita e quello che faccio con il telefono ogni tanto lo poggio qua al lato per registrare quello che faccio una volta ero completamente incapace a fare video e ho le prove esistono sono live sul mio canale mi imbraziano veramente tanto però per te ho preparato un estratto per farvi avere per farti avere un'idea ciao ragazzi siamo in cento finalmente sono arrivato a 100 iscritti magari un giorno arriverò anche a mille iscritti un giorno forse un certo iscritti cioè per me non sono ok c'è alcuni direbbero che non sono nulla bla 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 però c'è già il fatto che a quarter del vivido non sono più mi nonna mi madre mi fratello ma anche se solo 10 o solo 50 persone le guardano spontaneamente a me sta bene bella cosa buona 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 è questo obiettivo che mi intimorisce esatto questo esattamente 10 anni fa è stato il mio punto di partenza e in tutto questo tempo la mia ossessione è stata cercare di capire come fare video migliori di questo è stato un metodo per tentativi dove ho imparato sbagliando dopo imparato guardandomi indietro e rabbrividendo guardando le mie vecchie cose ogni fase di stallo ed in successo del mio canale mi ha insegnato qualcosa di nuovo tant'è che adesso mi guardo indietro penso cavolo avrei potuto imparare molto più in fretta potrei dare un sacco di consigli al me del passato per imparare più velocemente se solo avesse cinque minuti per passare un po di tempo col me del passato magari direi compra un po di bitcoin non è vero i dare dei consigli pratici fondamentali per imparare a fare video anche se non era un talento naturale e questi stessi consigli sono valuti anche oggi per te trova la tua unicità non possiamo essere tutti fantastici meravigliosi viaggiare il mondo lanciarci da scogliare alte 40 metri suonare piano al contrario bendati avere una voce fantastica sono cose meravigliose è molto figo ma c'è spazio anche per tanto altro e non solamente video della pressa idraulica o i video smr ci sono anche persone normali con una vita normale che si raccontano in maniera interessante e utile per gli altri il consiglio numero uno che darà il me del passato sarebbe quello di trovare nella mia vita quegli elementi che mi appassionano che appassionano gli altri ma di cui ancora non si parla tanto un giorno trovarli sarà impossibile perché ci sarà troppa competizione tutti faremo video però adesso invece e nel futuro prossimo ti garantisco che c'è spazio per crescere vuoi sapere se la tua idea è valida oppure no? facile la cerchi su youtube in italiano e in inglese e scopri chi l'ha fatta in quanti l'hanno fatta e se funziona due smettila di vergognarti la cosa numero uno che mi dicono le persone quando si tratta di fare video è non posso provare a fare video senza metterci la faccia non c'è un altro modo la risposta è che c'è un altro modo solo che se non sei neanche in grado di metterci la faccia forse fare video non fa per te anche perché per ogni persona che si vergogna c'è un'altra ugualmente brava che non si vergogna io dopo aver premuto rec che entravo nel pallone invidiavo gli altri youtuber già bravi già carismatici già famosi e invece io mi vergognavo anche solo far vedere i miei video ai miei genitori purtroppo in questo caso non c'è un segreto vero e proprio da seguire se non accettare il fatto che ci vergogneremo per forza ma questo non ci deve fermare prima iniziamo a vergognarci prima ci renderemo conto di essere diventati bravi non solo a parlare davanti un telefono o una fotocamera ma anche a parlare davanti al nostro capo il nostro professore oppure sopra un palco 3 fai video per gli altri e non per te stesso faccio video per me stesso è una cosa che mi dicevo un sacco di volte in passato ma la verità è che comunicare implica l'esistenza di un mittente e di un destinatario per cui se noi chiediamo il tempo delle persone la loro attenzione in cambio dobbiamo dargli qualcosa quindi lo sleccio delle nostre vacanze non serve a nessuno e anche in realtà il video di vendita del nostro prodotto sono tutti contenuti che dicono io 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 un contenuto per essere tale deve dare allo spettatore emozioni intrattenimento informazione e ispirazione almeno una di queste cose deve esserci quando fate un video dovete pensare a che serve questa cosa in che modo posso essere utile agli altri 4 non complicatevi la vita un video bello per essere tale non necessita dell'attrezzatura migliore delle luci migliori di infiniti piani sequenza di transizioni assurde ma anzi se volete iniziare a fare video meglio iniziare col proprio telefono e poi nel caso fare l'upgrade dell'attrezzatura questo perché più parti semplice meno possibilità hai di sbagliare 5 non reinventare la ruota esattamente come un neofita apre un nuovo programma e utilizza le impostazioni di partenza anche quando realizzi video devi partire da formule che già funzionano e questa cosa io l'ho imparata dieci anni fa perché esattamente nel momento in cui io ho iniziato a copiare il mio canale ha iniziato a funzionare poi piano piano io ho trovato il modo di trovare la mia originalità sono cresciuto è stato fisiologico però per crescere ho fatto mie tutte quelle cose degli altri creator che mi piacevano come impostare un format che attrezzatura comprare come strutturare un video partire da zero non è mai stato più facile di così 6 fate aiutare è molto probabile che in realtà hai qualcosa di molto interessante da dire ma non è tempo di fare video anzi sono proprio le persone che fanno cose interessanti che non hanno tempo di fare video perché passano il tempo a fare cose interessanti in questo caso ci viene incontro il team c'è una persona che ci aiuta a scrivere a montare a girare a pubblicare i nostri video perché alcuni in alcuni casi l'unica soluzione è farsi aiutare ed è esattamente quello che faccio io con mattia che da sempre è un mio collaboratore a fine giornata noi realizziamo i video scarichiamo il girato prepariamo il montaggio e più o meno questo impiega qualche giorno mentre oggi abbiamo a disposizione solamente qualche minuto sono stato fortunato in quest'ultimo decennio di attività perché l'abilità nel fare video è diventata fondamentale per tutti una volta era una tecnica relegata solamente a piccole industrie e appassionati nel corso degli anni è diventata il modo numero uno per comunicare più del testo e più delle immagini ma questo in realtà noi lo sappiamo fare video è fondamentale in tutti gli ambiti la mia domanda è se già sappiamo che fare video è importante come mai così poche persone sanno fare video bene l'impressione è che esattamente come il me quindicenne la maggior parte delle persone non sappiano distinguere la differenza tra un buon video è un brutto video specialmente quando lo fanno e invece saper fare questa differenza è fondamentale in un sacco di occasioni e ti faccio qualche esempio proposte di lavoro e provine quasi tutte necessitano una video presentazione eppure gli video presentazioni non ho viste tante brutte incontroluce buie con l'eco per i dei pensamenti più o meno identiche al mio video di ringraziamento di 100 iscritti però pensate quanto vi penalizzi rispetto agli altri avere un video così brutto oppure in campo di investimenti pensate a quanti progetti di crowdfunding hanno raccolto investimenti un sacco di soldi solo grazie al fatto che il video di presentazione era molto convincente oppure nell'ambito della ricerca ci sono studiosi che si fanno un nome nel loro campo condividendosi social adesso i loro studi oppure nel campo scolastico non c'è cosa migliore che studiare una lezione noiosa con un video divertente con i professori dovrebbero fare i video per i loro studenti in realtà un professore di matematica l'ha fatto si chiama elia bombardelli è stato utile non solamente ai suoi studenti ma tutti quanti gli studenti d'italia tra cui me il tempo al tempo il canale si chiamava less than trimeth i esempi che vi posso fare sono infiniti da dieci anni a questa parte io posso dire con fierezza di essere diventato uno youtuber a tempo pieno che è un termine che a molti non piace non piace utilizzare perché non è il massimo per quando ci si presenta con i genitori della propria ragazza però io l'utilizzo perché porto alta la bandiera della mia categoria mi vergogno molto di più a dire che sono anche un imprenditore sembra che mi voglio dare un tono però da due anni a questa parte ho la mia agenzia con cui aiuto i creator a collaborare con le aziende e aiuto le aziende a diventare più simili ai creator questo perché tutto quello che ho detto a livello personale si applica con il concetto di personal brand che conosciamo l'importanza di comunicarsi online di curare la propria presenza online però sta succedendo che anche le aziende si stanno trasformando piano piano in creator in piccole agenzie di comunicazione perché ormai fare pubblicità per molte aziende non basta più la pubblicità non funziona più come una volta esiste un concetto che si chiama banner blindness cioè il fatto che le persone sono immuni alle pubblicità per cui alcune aziende iniziano a trovare più vantaggioso fare video non per vendere ma per aiutare le persone e creare una community che è quello che io ho fatto per 10 anni su youtube quindi adesso mi ritrovo a dare consigli alle aziende su come comunicare e tra l'altro adesso le aziende tirano fuori candidature di lavoro proposte di lavoro per persone che devono andare a fare creator in azienda una figura che una volta era mitologica adesso una professione vera e propria questo perché stanno facendo a gara a chi per prima si costruisce la propria community questo era quello che avevo da dire per le persone brillanti che si vogliono comunicare online ho conosciuto imprenditori artisti filosofi e scienziati tutte persone che trarrebbero beneficio dal fare video e io sono sicuro che probabilmente anche tu trarresti lo stesso beneficio ti ho promesso all'inizio un contenuto in 15 minuti vediamo cosa abbiamo tirato fuori in 5 esattamente 10 anni fa è stato il mio punto di partenza in tutto questo tempo la mia ossessione è stata cercare di capire come fare video migliore di questo se solo avessi cinque minuti per passare un po di tempo col me del passato vi dare dei consigli pratici fondamentali per imparare a fare video 1 trova la tua unicità vuoi sapere se la tua idea è valida oppure no la cerchi su youtube in italiano e in inglese e scopri chi l'ha fatta in quanti l'hanno fatta e se funziona 2 smettila di vergognarti per ogni persona che si vergogna c'era un'altra ugualmente brava che non si vergogna 3 fai video per gli altri e non per te stesso se noi chiediamo il tempo delle persone e la loro attenzione in cambio dobbiamo dargli qualcosa 4 non complicatevi la vita più parti semplice meno possibilità hai di sbagliare 5 non reinventare la ruota e questa cosa io l'ho imparata dieci anni fa perché nel momento in cui io ho iniziato a copiare il mio canale ha iniziato a funzionare 6 fatti aiutare è molto probabile che hai qualcosa di molto interessante da dire ma non è tempo di fare video in alcuni casi l'unica soluzione è farsi aiutare grazie grazie grazie